Oggi mi fanno vedere il mio allenamento e visto che me ne avete chiesto in tanti, visto che mi mancava il mio allenamento e niente, dai! C'è l'allergia Matteo? Sì, sì. Annanzi. Come ti chiami su Instagram? Come mi chiami? Matteo Nonmolo. Come è il canale tuo di Youtube? Matteo Nonmolo. Dile a questi ragazzi, non fate i pigri, rialzate il culo dal divano. Non fate i pigri. Se no vi mando mia madre a casa, che so cavoli. Sì, fa come venerdì tredici. Che fa venerdì tredici? Ammazza tutti. Ma io dicevo li mando ad allenare tutti. Eh, tu li mando ad allenare. Ciao! Ciao! Vai, vai Matteo! Dove sta la grinta? Grinta? Dietro! Uveccio! Uveccio! Ciao! Ciao! Dai, Matteo! Dai, eh! Dai, eh! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Devi respirare! Tirare! Devo tirare, devo respirare, devo spingere e basta! Ah, eh! Quante cose devo fare contemporaneamente con te? Forte! Cos'è perché io sono un uomo. Oh, lui è un uomo, tu non sei nessuno! È un uomo che fa! non può fare uno abbracciami uno, due, tre dai, alza bellissimo, giù dai, ancora abbracciami dai, dai, dai bellissimo bravo 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 dai, dai io, vai sento il mio abbracci dai, dai dai e sempre dai ciao dai 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 grazie 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 una alla volta su quante ne devo fare? 10 dai 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 un po' bello Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti